Le imprese abruzzesi incontrano Alibaba, colosso dell'e-commerce, del digitale, per cercare di capire quali possono essere le opportunità che può fornire anche al nostro tessuto imprenditoriale. In un momento in cui può sembrare che il rapporto umano debba tornare un po' centrale, in realtà anche i mezzi digitali possono aiutare le nostre imprese piccole e medie che vogliono approcciare all'internazionalizzazione, possono utilizzare la piattaforma e i vantaggi, gli incentivi economici che attraverso l'accordo fatto con Lice sono a disposizione, per avere un processo di internazionalizzazione che altrimenti sarebbe difficile per un'impresa di piccole dimensioni poter avviare. È importante per le aziende in generale aprirsi a nuovi mercati perché gli ultimi eventi, soprattutto quelli dei due anni, ci hanno dimostrato che le condizioni al contorno possono cambiare radicalmente, possono cambiare in Abruzzo, nella provincia di Teramo e a livello nazionale e internazionale. Quindi per tutti quanti è assolutamente fondamentale ampliare la platea a cui rivolgersi. Fira in questo come può essere di supporto al tessuto imprenditoriale? Fira come sin dall'inizio cerchiamo di essere di supporto al tessuto imprenditoriale, facendo conoscere le opportunità che il mondo, l'Italia e l'Europa dà alle aziende e con il servizio che stiamo dando, sarebbe quello di Fiorienta, stiamo cercando di orientare le aziende verso le possibilità che il mondo dà allora ai professionisti e alle aziende bruzzesi.